E' stata effettuata la consegna della busta solidale, iniziativa ideata dagli agenti della Polizia Municipale di Reggio Calabria, finalizzata alla raccolta di generi alimentari contenuti appunto in ogni singola busta, che verrà donata direttamente dal personale del corpo ad ogni famiglia che ne ha fatto richiesta mediante i canali ufficiali della Protezione Civile Comunale. L'iniziativa proposta da una singola gente è stata subito condivisa dal comandante Salvatore Zucco e da moltissimi appartenenti alla Polizia Municipale, oltre che dal personale civile e perfino da agenti in pensione che hanno contribuito fattivamente per la buona riuscita. Certamente il gesto non è risolutivo, ma probabilmente servirà a dare un momento di sollievo a persone che in questo periodo hanno maggiori difficoltà.